Quando un morso può scatenare una rabbia infinita Lo stesso morso può far nascere in un essere pacifico una furia omicida Avanti il prossimo Buongiorno, mi dica Cos'ha lì? No, ti prego, no, no, no La brutale furia omicida limitata solo dall'inizio e la fine del giorno 365 vittime l'anno e un solo colpevole La mela Prossimamente nei migliori mercati Cioè sale cinematografiche Una mela al giorno toglie il medico di torno Come vi avevo promesso non sono sparito La rabbia è difficile da controllare soprattutto se fa caldo Quindi destate prima di dire o fare cazzate pensateci perché le nostre capacità cognitive sono un po' fuori fase Ora andate e diffondete il mio verbo La rabbia è difficile da fare cazzate pensateci perché le nostre capacità sono un po' fuori fase La rabbia è difficile da fare cazzate pensateci perché le nostre capacità sono un po' fuori fase